Allora, buongiorno nuovamente. L'obiettivo di oggi è quello di proseguire quella che è la nostra panoramica su l'ereditarietà. Abbiamo visto alcuni elementi di base nelle scorse lezioni. Innanzitutto abbiamo visto come funziona l'ereditarietà, ovvero che è un meccanismo per poter andare a estendere una classe di partenza. Infatti la parola chiave Java si chiama Extense. Andando ad aggiungere degli elementi. Questi elementi possono essere nuovi metodi, nuovi attributi. Inoltre possono essere anche modifiche di metodi esistenti, quelli che si chiamano gli override. Quindi se un metodo presente nella classe di base non è esattamente quello che serve a me, posso andarlo a modificare. Abbiamo poi visto, che ci sono delle nuove regole di visibilità, che esiste una classe base di tutte le classi in Java, che si chiama Object, e questo ci dà una serie di vantaggi. Quindi oltre a fornirci un tipo universale per fare dei riferimenti che puntano a qualunque tipo di oggetto, è una classe in cui sono ospitati alcuni metodi di uso generale. Quello che abbiamo visto nei nostri esempi è il metodo to string. Ce ne sono anche altri, insomma, trattati nelle lezioni. Ci torneremo poi più avanti velocemente, ma su quelli, a meno che ci siano dei forti dubbi, non mi soffermo più di tanto, perché sono tutto sommato meno importanti. C'è ovviamente il metodo equals, che è quello che permette di fare i confronti. Come possiamo andare a utilizzare l'ereditarietà? Abbiamo visto alcuni esempi, tutto sommato, fini a se stessi per capire come funziona il meccanismo dell'ereditarietà. Come posso sfruttare l'ereditarietà e quali problemi mi risolve? L'idea è una caratteristica di un linguaggio è utile nella misura in cui mi permette di risolvere dei problemi in maniera più semplice rispetto a un linguaggio senza quella caratteristica. Allora, le classi astratte dovrebbero essere state trattate in una delle lezioni. Se non c'erano è perché probabilmente l'ho tagliata. Comunque, una delle prime cose di cui parliamo è per l'appunto le classi astratte. Quindi, poi vado a ricontrollare le lezioni precedenti, quelle che vi ho messo a disposizione. In ogni caso, oggi ne parleremo in maniera tutto sommato sintetica. Nel caso vi aggiungo in coda le prossime lezioni, la prossima lezione è anche le classi astratte. Allora, quello che viene risolto molto spesso tramite l'ereditarietà è il problema di avere un certo tipo di funzionalità che può essere sviluppato, implementato in tanti modi diversi. Abbiamo visto nei nostri esempi, ad esempio, la possibilità di avere una classe che implementa una lista e abbiamo visto che possiamo fare una lista linkata, possiamo eventualmente utilizzare un array, la lista potrebbe essere bilincata, l'array potrebbe essere fisso, potrebbe essere ridimensionabile. Ci sono diverse varianti, ok? Avete già visto nei corsi precedenti di algoritmi e strutture dati che ci sono tante strutture dati, ok? Avete visto che quando io definisco un tipo di dato astratto, il tipo di dato astratto mi definisce una serie di operazioni, ma non la specifica implementazione. L'ereditarietà mi permette di andare a definire da una parte il tipo di dato astratto, la classe di base e separatamente tante varianti. Vediamolo con un esempio un po' più concreto. Allora, qui nel package che avevo chiamato ereditarietà vado a crearvi una nuova classe che vado a chiamare lista. Allora, questa è la classe che rappresenta la lista generica che operazioni ha un tipo di dato astratto lista. Ce ne sono tanti, quindi abbiamo visto public void, aggiungi, abbiamo parlato di lista di interi, quindi i, abbiamo un meccanismo che mi permette di public int, testa, andare a ottenere l'elemento che sta in testa. Abbiamo un public int dimensione che mi dice quanti elementi stanno nella lista. sto mettendo dei valori più uguali a meno uno voglio evitare di implementarlo, ok? Quindi stiamo definendo le operazioni e poi dopo pensiamo alle possibili implementazioni. E abbiamo ad esempio un public int rimuovi testa mi fermo qua, ok? A seconda della variante di tipo di dato astratto potrebbero anche essere altri metodi per cui ad esempio potrei avere la coda potrei avere la rimozione della coda eccetera non lo faccio ma se volete potete estendere questa classe come come preferite quindi in vista generica di interi i metodi abbiamo detto vi aggiungo anche il commento javadoc quindi aggiunge un elemento in testa alla lista restituisce l'elemento in testa alla lista il parametro i è nuovo valore da aggiungere la dimensione restituisce il numero di elementi presenti nel lista e qui il numero rimuove in testa rimuove l'elemento in testa alla lista e restituisce il valore restituisce il valore l'elemento in testa questa classe l'ho di proposito creata così vuota senza i metodi perché perché a questo punto l'idea è come faccio implementare una lista posso utilizzare una lista con i nodi scusate con i nodi linkati come avevamo fatto in una delle lezioni precedenti oppure potrei andare a utilizzare un array andando a riempire l'array eventualmente ridimensionandolo quindi quello che posso fare è qui andare a creare una nuova classe lista linkata che sostanzialmente ha come superclasse la nostra lista lo scrivo qui e vedete che eclipse mi aggiunge l'extense lista ma posso anche andare a creare una classe lista array anche questa che estende lista a questo punto l'idea qual è che nella lista array avrò il mio private int quadri elementi ho un public list array senza parametri che non fa nulla e un public lista array con un parametro intero che chiamiamo dimensione che sostanzialmente va a dire elementi uguale new elementi di dimensione fatemi anche mettere qua la locazione così non elementi ma sto scrivendo una stupidaggine int int e qui default dim dimensione di default la dimensione di default non c'è chiediamo Eclipse di crearci questa costante che potrebbe essere pari a 10 come facciamo ad aggiungere gli elementi beh possiamo dire allora facciamo un override ricordatevi che è sempre bene andare a mettere l'override in modo che il compilatore faccia un controllo public void aggiungi int il nuovo elemento ok andiamo ad aggiungere un private int next inizialmente uguale a 0 e andiamo a dire elementi di next più più uguale a i faccio dovrei fare controllo sulla dimensione eccetera 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 ok e implementare gli altri metodi lista linkata private class nodo int valore nodo next private nodo testa e override public void aggiungi int e qui vado a mettere un costruttore che chiamo nodo int i vado a dire valore è uguale a i e next è uguale a testa e qui vado a dire testa uguale a new nodo i e anche qui ci sono gli altri metodi che per brevità non vado a implementare direttamente domanda la scritta override è facoltativa sì è facoltativa ma è raccomandata perché perché sostanzialmente se io metto override il compilatore controlla che effettivamente stia facendo l'override quindi la ridefinizione di un metodo che sta nella classe di base che si chiama lista ok per cui se io invece di scrivere aggiungi lo chiamo aggiunge il compilatore mi dice attenzione questo non è un override ok se invece mi dimentico di scrivere override e scrivo aggiunge il compilatore non mi dice nulla per cui ovviamente è facoltativa però è una buona norma scriverlo sempre in modo che ci sia un controllo in più domanda in questo caso abbiamo creato nodo come classe interna che mantiene un link alla classe che lo crea in modo da poterci riferire a testa esattamente ok ve l'ho messo come easter egg in più questo lo posso scrivere perché questa è una classe interna per cui quando creo un oggetto nodo qui in questo oggetto ho un riferimento all'oggetto lista linkata che lo contiene e quindi posso accedere al suo attributo testa esatto se qui avesse scritto static l'oggetto nodo non avrebbe avuto un riferimento alla classe contenuta e quindi qui quest'esta non avrei potuto metterlo perché non avrei saputo a quale oggetto fare riferimento a questo punto scusate vado a creare una nuova classe con un main per vedere come possiamo utilizzare questi nuovi oggetti quindi esempi lista e vado a creare il mio main per cui l'idea è usando il polimorfismo posso definire una lista l uguale new lista linkata e vado a dire l punto aggiungi 42 e posso fare tutte le altre operazioni che voglio su questa lista ok se mi accorgo in un momento successivo che la lista linkata per qualche motivo non va bene perché magari non è efficiente preferisco utilizzare l'altra variante quella che abbiamo chiamato lista array semplicemente vado a rimpiazzare qua lista linkata con lista array e tutto il resto del programma è assolutamente ininfluenzato da questa modifica quindi tutto il resto continua a essere valido perché tutto il resto del programma utilizza un riferimento di tipo l l tipo lista che è alla classe di base quindi la specifica classe derivata che sto utilizzando qui è rilevante ok l'importante è che la classe che sto utilizzando lì sia una classe che estende lista che poi utilizzi un array che utilizzi una lista linkata che utilizzi un database che utilizzi una blockchain quello che volete è assolutamente indifferente ok a questo punto domanda se avessi tre livelli di classe annidate funzionerebbe lo stesso cioè se avessi una lista che si chiama lista array estesa che estende a sua volta lista array di nuovo non avrei nessun problema nel senso che l'importante è che ci sia la classe di base non necessariamente quella da cui estendo ma una superiore quindi non cambia assolutamente nulla quello che potrei fare qui attenzione è anche scrivere l uguale new lista ok è lecito l tipo tipo lista scrivo new lista qual è il problema in questo caso è che di nuovo il mio programma da un punto di vista sintattico è assolutamente equivalente continua a funzionare e il compilatore non mi dice nulla però se io vado a vedere lista se vi ricordate come abbiamo scritto ecco il mio aggiungi è vuoto ok non fa nulla ma l'avevo pensato così nel senso che ho pensato questa classe come una classe da cui vado a estendere e vado a fare tante varianti qui dentro non ci metto nulla per cui se volete questo di andare a creare un oggetto lista è un errore nel senso che io non voglio creare delle liste voglio creare o delle liste array oppure delle liste linkate o qualunque altra variante ma non oggetti lista questi sono pensati come il fattore comune che non contiene nulla per cui qui potrei andare a scrivere system out print ln attenzione ok questa questo metodo non è implementato ho messo la e accentata ma mi è scappata ok che se volete è un insomma una sotterfugio per evitare di stampare un messaggio di eseguire un metodo che in realtà non esiste per lasciare una traccia potrebbe effettivamente come suggerite essere più opportuno utilizzare un logger per cui questa questa stampa non arriva all'utente però sostanzialmente l'idea è in qualche modo segnalare il fatto che le cose non stanno andando bene se utilizziamo un logger la cosa va a finire in maniera un po' nascosta se utilizziamo un println probabilmente questa cosa verrà vista dall'utente finale in entrambi i casi il risultato è che però cercavo di aggiungere un elemento alla lista e non l'ho fatto perché in realtà questo metodo non è implementato il punto è che ho fatto un errore nell'utilizzare l'ereditarietà perché questa classe lista è una classe che noi potremmo andare a considerare come una classe non concreta ok non utilizzo il nome astratto ma diciamo non concreta perché perché effettivamente mancano degli elementi Java ci viene in conto in questi casi e ci permette di andare a dichiarare questa classe come una classe astratta cosa vuol dire vuol dire che con quella dichiarazione stiamo dicendo la classe è astratta significa che non è completa è una classe pensata per essere estesa e completata da delle sottoclassi ok questa dichiarazione da sola ci dà già un aiuto in fase di compilazione nel senso che quando cerchiamo di andare a istanziare quindi fare l'operazione di new su una classe che è astratta il compilatore si dice non posso distanziare la lista perché è astratto ok quindi questo questo è errato perché lista è astratta ok quindi adesso non ho risposto alle domande che mi avete fatto prima se questa è una classe astratta questa è una classe pensata per essere astratta ma prima non era ancora stata dichiarata astratta quindi non era proprio astratta ok era astratta nelle intenzioni ma non negli fatti adesso adesso con questo parola chiave abstract invece è veramente una classe astratta cioè una classe che non può essere istanziata direttamente perché è incompleta mi dà l'infrastruttura se volete la definizione dei metodi potrebbe avere all'interno di una serie di metodi completi di attributi dipende un po' dai casi ma non è pensata per essere utilizzata direttamente è pensata per essere estesa e completata ok questa è l'idea della classe astratta a questo punto se abbiamo fatto questo piccolo passaggio di andare a dichiarare la classe astratta ecco che possiamo anche andare a dire che questo metodo qui scritto in questo modo non ha molto senso quindi quando ho una classe astratta qui posso permettermi su alcuni metodi di andare a evitare l'implementazione ok quindi non voglio fornire l'implementazione cioè sto dicendo che questo metodo qui dentro non ha un'implementazione l'idea è chi va a ereditare questa classe dovrà fornire la sua implementazione ovviamente non posso semplicemente mettere il punto e virgola ma Java mi chiede di andare a dire che anche il metodo è astratto ok quindi dichiarare una classe astratta vuol dire che questa classe non può essere istanziata dichiarare un metodo astratto vuol dire che questo metodo non è implementato e quindi le classi che estendono questa classe devono andare a implementarlo a cosa serve una classe incompleta a essere completata prima parte della risposta seconda parte della risposta vado a commentare questo perché non è corretto a definire un insieme di metodi quella che è un'infrastruttura di base che poi può essere utilizzata in tanti contesti quindi la classe lista viene utilizzata tranquillamente indipendentemente dal fatto che ci sia che abbiamo scelto un oggetto lista array oppure un oggetto lista linkata quindi mi dà un'infrastruttura di base e poi io posso andare a specificarlo questo in fase di definizione delle funzionalità nell'uso io posso utilizzare un riferimento alla classe di base astratta e incompleta che mi permette all'ultimo momento di cambiare l'oggetto ok lasciando valido tutto il codice quindi mi dà una flessibilità in più come vi dicevo prima se lista array non mi piace e voglio andare a mettere lista linkata tutto il mio programma che aggiunge toglie eccetera continua a restare valido ok io qui posso tranquillamente chiamare tutti gli altri metodi c'era una domanda ancora sopra questo new lista usa il costruttore implicito di lista sì e qui non c'è un costruttore quindi è un costruttore implicito inizializza null no assolutamente no il costruttore implicito non inizializza null il costruttore implicito crea un oggetto lista inizializzando i metodi scusate gli attributi interni a null ma l non è null l punta un nuovo oggetto lista ok quindi l'idea è do un'infrastruttura di base posso estendere questa infrastruttura con delle classi in modo che il cliente l'utilizzatore possa far riferimento a questa infrastruttura di base ma senza curarsi del fatto che in un caso specifico ci sia una variante piuttosto che l'altra perché perché tutte comunque estendono e quindi sono conformi a quello che è definito l'infrastruttura di base quando voi guidate un'auto avete i vostri immaginando il cambio normale manuale ai vostri tre pedali avete il volante frecce e gli altri comandi che avete vicino al volante il fatto che il motore sia a benzina a metano diesel ibrido elettrico un po' diverso perché tendenzialmente è il cambio automatico ma quindi cosa sta sotto quindi come è implementato il tutto è indifferente l'infrastruttura base è quella definita dalla classe stratta allora domanda nella classe stratta non potremmo fare i parametri più generali ad esempio andare a trattare un object sì sicuramente vi ho fatto il caso della lista di interi ma ragionevolmente se io dovessi scrivere una lista linkata da zero che possa essere utilizzata in maniera più ampia qui invece di mettere un intero andrei a mettere un object sì quello sarebbe un'utilità molto più ampia ok vedremo a breve che in realtà queste liste noi le costruisco perché è una struttura dati semplice che voi conoscete in realtà sono già tutte implementate ok c'è una libreria delle collezioni che fornisce già tutto domanda le classi astratte assomigliano ai punto H del C dove ci sono i prototipi e le funzioni sono la vera implementazione che si trova nei fai punto C non esattamente la grossa differenza è che in C una volta che io ho il prototipo quelle funzioni le posso implementare in un unico modo qui il prototipo che è dato dalla classe astratta può avere tante diverse implementazioni e di volta in volta io vado a fare la new di uno piuttosto che dell'altro in C io non posso andare a dire utilizza questa variante piuttosto che l'altra perché quando faccio il link dato il nome di funzione ho un'unica implementazione quindi è estremamente più potente questo meccanismo rispetto alla distinzione tra prototipi e implementazioni che abbiamo in C perché qui l'implementazione ne ho tante una per ciascuna classe che estende la classe astratta lista il principio è la base è analoga però questo meccanismo che si basa sull'ereditarietà è estremamente molto più potente perché io posso scegliere a runtime se lo faccio con i prototipi posso compilare una volta una variante una volta l'altra ok immaginate di avere una libreria che utilizza un hardware specifico se voglio scrivere un programma che funziona su la versione Intel piuttosto che ARM andrò a compilare una variante piuttosto che l'altra in Java io posso avere tutte e due contemporaneamente presenti e a runtime scegliere quale implementare tanto per darvi la differenza che ho in termini di di espressività e di potere domanda si possono definire attributi in una classe astratta sicuramente posso avere un misto di metodi astratti metodi non astratti io qui non ho messo astratto ma in realtà anche questo andrebbe astratto però vedete che tranquillamente li posso mischiare posso avere degli attributi posso avere delle costanti posso avere tutto quello che ho in una classe normale domanda nelle sottoclassi fare l'override dei metodi astratti non li rende astratti essi stessi no anzi è il contrario vediamo cosa succede se io vado a mettere anche astratto il metodo testa che abbiamo qua quindi vado a scrivere abstract metto il punto e virgola invece dell'implementazione scusate non dovevo commentare lì ma dovevo commentare qui ok metto il punto e virgola e dichiaro che anche questo è astratto cosa succede succede che abbiamo detto al compilatore allora questa classe è astratta quindi non può essere istanziata e lui non me la lascia istanziare il metodo aggiungi e il metodo testa sono astratti e quindi io decido di non mettere un'implementazione il problema è che nelle sottoclassi io questa implementazione la devo fornire quindi le classi lista linkate e lista array devono per forza a meno che non debbano essere astratte anche loro devono andare a fornire l'implementazione di tutti i metodi astratti e quindi qui se io voglio che questa classe sia concreta quindi non astratta devo andare a fare un override di public int testa e return di testa punto valore a questo punto vedete che non c'è più l'errore che c'era qui faccio la stessa cosa qui su lista array allora vedete se io vado sul nome della lista l'errore che mi viene stampato è il tipo lista array deve implementare i metodi il metodo astratto ereditato testa ok e quindi posso chiedere a Eclipse di aggiungere questa implementazione e lui me la aggiunge qua sotto ok esattamente come avevo fatto io ovviamente mi lascio un to do perché Eclipse non sa che cosa andare a mettere qui dentro qui io faccio un return di elementi di zero il primo elemento domanda una classe astratta potrebbe avere un metodo una classe non astratta potrebbe avere un metodo astratto risposta no i metodi astratti devono per forza essere all'interno di una classe astratta la motivazione è semplicemente per questioni di coerenza perché se io ho un metodo astratto in una classe non astratta teoricamente potrei creare un oggetto di quella classe e a quel punto anche chiamare il metodo astratto però se chiamo un metodo astratto che cosa fa la virtual machine che cosa esegue se non c'è l'implementazione mi ritrovo quindi in una situazione non determinata e quindi java ma anche altri linguaggi impongono che a fronte di una classe di un metodo astratto anche la classe generale debba essere dichiarata come astratta domanda eventuali attributi dovrebbero essere protected è una scelta se metterli protected privati potrebbero essere protetti dichiarati come protected in modo che possano essere visibili alle classi che implementano la classe astratta per cui sì è ragionevole che siano protetti ma non è una regola generale domanda che penso potrebbe avere attributi private allora se ci fossero degli attributi utilizzati direttamente da metodi non astratti all'interno della classe astratta allora sarebbe inutile renderli visibili anche le sottoclassi però è ovvio che se è un metodo che deve essere utilizzato da attributi scusate se si ho degli attributi che devono essere utilizzati da metodi astratti nella classe di base ovviamente quegli attributi devono essere protetti altrimenti le sottoclassi non lo vedono domanda avere dei metodi con implementazione quindi non astratti all'interno di una classe astratta che utilità potrei avere dei metodi che hanno possono essere definiti in termini di quello che è già presente nella classe di base ok vi faccio un esempio nella mia lista io potrei qui andare a definire allora dimensione anche questo lo mettiamo come astratto potrei avere un public boolean vuota che mi restituisce sostanzialmente vero o falso in funzione del fatto che la mia lista sia piena o vuota vuota potrebbe essere semplicemente un return dimensione uguale uguale a zero in questo caso dimensione sostanzialmente la posso definire già qui ok evito che sia ridefinito tante volte in tutte le sottoclassi lo definisco qua potrebbe essere come in questo caso un metodo che usa altri metodi ok quindi un metodo che semplifica altri oppure potrebbe essere un metodo che utilizza degli attributi che sono definiti nella classe di base e per cui non ha bisogno dei dettagli che stanno nelle sottoclassi domanda potrebbero essere simili ai metodi di default dell'interfaccia la funzionalità o comunque la logica è sostanzialmente la stessa sì dei metodi di default nell'interfaccia per cui qui se vado a mettere abstract anche la dimensione ovviamente mi ritrovo lista e lista linkata che sono errate perché devono implementare il metodo astratto quindi aggiungo qui l'implementazione che ritrovo qua sotto e qui o vado a mettere un contatore oppure vado a fare la scansione testa uguale a null zero altrimenti testa punto int conta return next uguale a null 1 altrimenti 1 più next completo questo codice così almeno formalmente corretto e poi arrivo alle vostre domande e qui ritorno sostanzialmente next allora quando è preferibile l'utilizzo di una classe astratta e quando quello di un'interfaccia il discorso è abbastanza complesso sostanzialmente la grossa differenza tra le interfacce e le classi astratte è che le interfacce permettono quella che è l'ereditarietà multipla ovvero una classe può andare a derivare da più interfacce implementarle invece una classe può estendere una sola classe eventualmente astratta in generale se non ho bisogno di attributi nella classe base astratta il consiglio è quella di non farla come classe astratta ma utilizzarla come interfaccia e questo mi da sostanzialmente un grado di libertà in più e come raccomandazione generale quindi questa lista che io vi ho appena fatto potrebbe tranquillamente essere invece di una classe di base astratta un'interfaccia perché non ha attributi ha soltanto metodi quindi tendenzialmente è preferibile andare a svilupparla come interfaccia piuttosto che come classe astratta altra domanda dentro la classe astratta è possibile definire metodi statici e svilupparli lì sicuramente sì ok quindi prima tipologia di problema che ci permette di risolvere l'ereditarietà tramite una classe eventualmente astratta o tramite un'interfaccia è quella di definire l'infrastruttura di base ovvero l'insieme di operazioni che io voglio fare e andare a fornire tante alternative ok se io questa mia classe astratta lista la chiamassi vi creo un'interfaccia così è più facile se creo un'interfaccia il lista metto lì davanti per indicare che è un'interfaccia e vado a copiare tutti i metodi che stanno qua dentro nella mia interfaccia lista a questo punto non devo andare a dichiararli astratti posso metterlo ma è sostanzialmente inutile implicitamente tutti i metodi di un'interfaccia sono astratti anche questo qui è astratto questo metodo come dicevamo prima dentro un'interfaccia deve essere dichiarato come metodo di default ok un metodo di default è un metodo che utilizza esclusivamente o i propri parametri oppure altri metodi dell'interfaccia altra caratteristica fondamentale che ho nell'interfaccia ok oltre ad avere implicitamente tutti i miei metodi come metodi astratti io qui ce l'ho scritto ma normalmente non si scrive mai sulle sull'interfaccia sono tutti implicitamente astratti non posso avere degli attributi ok in un'interfaccia non posso mettere un ad esempio protected int size ok perché le interfacce non hanno nessun attributo la motivazione per questa scelta dipende da come è implementata l'ereditarietà la volta scorsa avevo fatto qualche cenno seguito da vostre domande a Vtable eccetera in C++ in cui è possibile l'ereditarietà multipla ci sono delle regole molto complicate su come andare a costruire la Vtable quindi la interfaccia la tabella con i puntatori a funzione da utilizzare per risolvere il meccanismo del dynamic binding per evitare tutte queste complicazioni chi ha progettato Java ha deciso di renderle di rendere l'interfaccia una cosa molto molto semplice che non richiede implementazioni troppo complicate e quindi in termini di linguaggio le interfacce sono molto semplici e non interferiscono con l'ereditarietà tra le classi normale questa è l'aspirazione veloce l'aspirazione complicata potete cercarla ma non non entriamo in questi dettagli ok a lezione ovviamente posso mettere degli attributi che siano statici magari anche final ma non attributi normali di istanza quindi il motivo per cui utilizzo l'interfaccia è che io posso tranquillamente all'interno della mia classe quando vado a definire una classe implementare più interfacce ok quindi mentre data una classe questa ha un'unica classe di base se non lo specifico è implicitamente object data una classe questa può avere tante interfacce di base e quindi all'interno di una stessa classe io posso andare a combinare tante funzionalità diverse adesso vediamo tra poco un esempio altra domanda come ho fatto a creare l'interfaccia come ho fatto esattamente quando creo una classe quindi quando faccio un più oltre a classe o interface domanda quando utilizzo qui dimensione all'interno del metodo vuota vado a utilizzare per l'appunto l'implementazione che è fornita nella sottoclasse quindi tornando al nostro salvo questa classe questa interfaccia vado a prendere il mio la mia lista linkata e qui vado a modificarle e invece di andare a estendere lista vado a scrivere implements perché quando ho a che fare con l'interfaccia uso la parola chiave implements il lista ovviamente ho tutti i metodi astratti e quindi ad esempio anche il metodo rimuovitesta devo implementarlo ok stessa cosa per lista array quindi vado a definire questo che implements il lista e ovviamente devo andare ad aggiungere anche il metodo rimuovitesta ok non lo vado a scrivere ma a questo punto dentro il mio esempio lista qui non utilizzo lista ma vado ad utilizzare il lista lo uso esattamente come fosse una classe nel senso che posso utilizzare dei riferimenti di tipo interfaccia e punta la mia lista linkata ok e lo uso esattamente lo stesso modo per cui se voglio andare a verificare se una lista è vuota uguale l punto vuota cosa succede qui vado all'interno dell'oggetto l che è un oggetto di tipo lista linkata vado a chiamare il metodo vuota il metodo vuota non è definito qui dentro ma è definito dentro l'interfaccia e chiama il metodo dimensione ok attenzione qui implicitamente c'è un dis punto dimensione e anche in questo caso parte il meccanismo del dynamic binding quindi va a vedere this che in questo caso è una lista linkata se ha un metodo che si chiama dimensione se ce l'ha lo esegue e mi restituisce il valore se non c'è va a vedere nella classe di base e via di questo passo ok il dynamic binding funziona anche qui nel senso che l è di tipo i lista posso chiamare questo metodo perché dentro la mia interfaccia è definito un metodo vuota vado a vedere se vado a vedere la classe specifica che si chiama lista linkata all'interno di lista linkata esiste l'implementazione del metodo vuota no non c'è allora cosa faccio vado a vedere in quella che sta sopra nell'interfaccia trovo lì dentro si lo eseguo quindi tutte le volte che io ho un'invocazione di un metodo parte il meccanismo del dynamic binding e questo meccanismo è universale mi permette di andare a sfruttare l'ereditarietà al massimo ok allora faccio un passo indietro e torno alla nostra lista alla nostra interfaccia lista tutti i membri tutti i metodi che stanno in una lista sono implicitamente astratti infatti ci metto punte virgola posso ma non sono obbligato mettere il modificatore abstract ok e quindi quello è qualcosa che normalmente sull'interfaccia non vado mai a indicare perché è inutile ok esattamente come mettere il dis. davanti a tutti gli attributi o i metodi della classe solitamente non si fa lo posso fare ma è inutile quindi tutti i metodi sono astratti e questo vuol dire che io non posso andare a fornire un'implementazione esiste però un'eccezione che è quella data dai metodi di default ok quindi se definisco un metodo come metodo di default allora posso definire un'implementazione ma ha una condizione che l'implementazione quindi il corpo del nostro metodo di default faccia riferimento esclusivamente o ad altri metodi come in questo caso oppure a attributi statici di questa interfaccia ok questo vuol dire che questo metodo potrà essere chiamato senza nessun problema in una delle sottoclassi che lo implementano perché utilizza comunque dei metodi che già esistono e sono definiti quindi sicuramente questo metodo può funzionare ovviamente non può fare riferimento a attributi delle sottoclassi perché qui non sono definite ok per cui tutti i metodi in interfaccia devono essere astratti quindi non devono avere l'implementazione se voglio dare un'implementazione devo definire come metodi di default a questo punto il compilatore mi consente di mettere l'implementazione ma mi vieta di utilizzare qualunque cosa che non siano metodi o costanti di questa interfaccia ok domanda se due interfacce hanno lo stesso metodo di cui una implementa il default mentre l'altra lo lascia implicito che cosa succede prova a scrivere le due interfacce e vedi cosa succede domanda quindi vuota viene visto da tutte le classi che usano l'interfaccia sì è un metodo che viene sostanzialmente ereditato da tutte le classi che impremettono l'interfaccia sì ok a questo punto qual è il vantaggio di usare l'interfacce è il vantaggio di poter andare a implementare più interfacce diverse quindi quando io ho la mia lista linkata posso andare a implementare tante interfacce ok ad esempio immaginiamo di voler avere una classe che sia stampabile in qualche modo che abbia un metodo print e potrei definire un'interfaccia stampabile col metodo stampa e fare in modo che la mia lista linkata implementi anche quell'interfaccia come potremmo scrivere questa interfaccia e come potremmo implementarla la risposta dopo una breve pausa ok sono le 9.47 diciamo che riprendiamo alle 10 allora quello che accennavo si poteva fare un attimo fa è sostanzialmente andare a definire un'interfaccia che permette a degli elementi di essere stampati quindi posso definire un'interfaccia che chiamo stampabile e in questa interfaccia vado a mettere semplicemente il mio void print a cosa serve questa interfaccia ok definisce un elemento un scusate un oggetto come stampabile tramite il metodo a questo punto cosa significa significa che se io voglio stampare la mia lista linkata oltre a dire che implementa il lista posso dire che implementa stampabile dire che implementa stampabile vuol dire che ovviamente deve andare a realizzare deve andare a implementare i metodi definiti in questa interfaccia quindi sostanzialmente il metodo print in effetti il messaggio di errore che mi viene dato qui è che la lista linkata non implementa il metodo strato stampabile quindi dico eclipse di crearmi questo metodo che mi viene messo qua sotto quindi posso andare a fare un nodo add current uguale testa testa diverso da nulla system out println current punto valore current uguale current punto next non ci interessa tanto il dettaglio dell'implementazione ma a questo punto la nostra lista linkata che andiamo a salvare andiamo a salvare qui ah scusate non test ma current mi segnalo un errore da qualche parte qui punto e virgola qui che manca qui nel mio esempio lista posso andare a prendere la mia lista linkata e stamparla ok attenzione se utilizzo l l è di tipo ilista quindi se io provo a scrivere l punto print il compilatore mi dice guarda che dentro l'interfaccia ilista non esiste un metodo print quello che posso fare è andare a a dire stampabile s uguale cast a stampabile di l mentre quando ho delle classi il cast deve essere corretto nel senso che non posso fare un cast da un integer a una stringa perché sono due classi scorrelate in generale quando ho a che fare con l'interfaccia il cast è un po' più flessibile nel senso che il compilatore mi lascia fare dei cast perché mi dice l è un riferimento a un oggetto di una classe che implementa ilista quella classe potrebbe implementare qualunque altra interfaccia quindi tendenzialmente quando io faccio un cast da un'interfaccia ilista che è il tipo dl a un'altra interfaccia stampabile questo cast normalmente il compilatore me lo consente per cui tranquillo quindi non abbiamo mai errori di cast tra interfacce in fase di compilazione attenzione in fase di compilazione in fase di esecuzione è un altro discorso per cui se effettivamente l'oggetto puntato da l oltre a implementare ilista implementa anche stampabile va tutto bene altrimenti ho un errore di cast in fase di esecuzione nel nostro caso lista linkata l'abbiamo fatto un attimo fa e quindi sappiamo che va bene e quindi possiamo andare a scrivere s.print per cui se non ho sbagliato ci stampa 42 che è l'unico elemento che abbiamo inserito in quella lista ok il metodo lista linkata semplicemente fa un ciclo ma ci interessa relativamente poco come lo fa ok l'importante è che implementa in qualche modo questo questo metodo domanda torno qui si poteva tranquillamente scrivere stampabile s uguale a l senza avere problemi no perché sostanzialmente l è di un altro tipo quindi non posso assegnare devo essere io come programmatore a dire al compilatore guarda che per come ho costruito il programma sono sicuro che l'oggetto puntato da l sia di una classe che implementa stampabile ok quindi il compilatore un minimo di controllo lo fa sostanzialmente si fida di quello che gli dico io come programmatore se poi io ho fatto una stupidaggine la colpa è mia non è il compilatore il compilatore fa tutti i controlli possibili domanda s può usare il metodo di lista linkata ovviamente no perché s è di tipo stampabile quindi l'unico metodo che io posso chiamare su s è print quindi ricordatevi che il compilatore va a prendere il tipo di s dentro s c'è semplicemente print e quindi quello è l'unico metodo avete conto l'oggetto è esattamente lo stesso però l'ho creato come lista linkata lo sto utilizzando tramite l che è di tipo il lista poi lo sto usando anche tramite s che è di tipo stampabile ovviamente ogni riferimento mi permette di accedere a un insieme di metodi diversi se utilizziamo il tipo lista linkata ho tutti i metodi disponibili ovviamente se io passaggio ulteriore faccio lista linkata ll uguale a l anche qui non lo posso fare in assoluto perché lista linkata non è l'unica classe che implementa lista quindi devo andare a fare un cast a questo punto con ll posso andare ovviamente a stampare aggiungi posso chiamare print posso chiamare tutti i metodi definiti dentro lista linkata o in una delle classi o interfacce che implementa domanda ma qual è il vantaggio di mettere print in una interfaccia separata il vantaggio è che sostanzialmente non voglio stampare soltanto delle liste immaginate di avere oltre alle liste anche delle persone se io voglio avere un metodo che sia in grado di trattare liste persone tabelle di hash qualunque altro tipo di oggetto tutti questi implementano stampabile ma non tutti implementano lista quindi vado a definire un insieme di proprietà di operazioni che voglio poter fare e le metto in una lista scusate in un'interfaccia a questo punto chi vuole fornire quell'insieme di operazioni cosa fa implementa l'interfaccia e quindi i clienti possono utilizzare l'interfaccia per chiamare quei metodi ricordatevi che Java è un linguaggio fortemente tipizzato quindi io devo avere il metodo che voglio chiamare definito all'interno di una classe o di un'interfaccia quindi è duplice se una classe vuole fornire una serie di metodi può implementare l'interfaccia che definisce quei metodi a questo punto chiunque usi un riferimento all'interfaccia può chiamare quei metodi su quella classe o su qualunque altra classe che implementi l'interfaccia l'idea è che non sono legato a una specifica classe ma posso andare a stampare qualunque classe implementi l'interfaccia stampabile quindi tutto si riconduce ad usare elementi diversi in maniera simile se vuoi possiamo sintetizzare così il grosso vantaggio sì e tra un attimo vediamo anche il grosso vantaggio di questa flessibilità vi faccio una veloce puntualizzazione se qui invece di lista linkata vado a mettere lista array che è l'altra classe che implementa il lista questo cast ha stampabile viene considerato di nuovo corretto perché lo dico io programmatore il compilatore mi crede ma se ovviamente vado a eseguirlo ho un class cast exception perché perché lista array non implementa stampabile ok ok benissimo a questo punto se io vi chiedo di pensare a un algoritmo che avete studiato nel corso di APA come categoria di algoritmi che categoria di algoritmi vi viene in mente ordinamento sort esattamente ok quando uno parla di algoritmi ok quello più più frequente è l'ordinamento benissimo il problema dell'ordinamento è che l'algoritmo generale è ben definito cioè anzi ce ne sono tantissimi gli algoritmi di ordinamento più o meno efficienti a seconda delle condizioni più efficienti in tempi di tempo o di spazio con casi particolari strambi o meno ok ma non ci interessa in questo momento il punto è che gli algoritmi sono definiti hanno sostanzialmente una parte che però è variabile ovvero come faccio il confronto tra gli elementi che voglio ordinare ok alla fine un algoritmo di ordinamento che cosa fa va a pescare due elementi seguendo per l'appunto le regole o l'idea generale dell'algoritmo nell'array diciamo che vogliamo ordinare fa il confronto e se il confronto mi dà un certo risultato scambia gli elementi e alla fine volendo descrivere in termini molto generali gli algoritmi di ordinamento fanno questo pescano due elementi se è necessario li scambiano e poi ne pescano altri finché gli elementi sono ordinati ok e con questo abbiamo riepilogato praticamente metà del corso di algoritmi e programmazione in tre secondi però il problema è nei dettagli come faccio a fare il confronto esiste un metodo adesso vi creo una nuova classe con un main per vedere qualche qualche esempio ordinamento con un main esiste una classe scusate un metodo che si chiama sort della classe arrays che permette di fare l'ordinamento ok abbiamo già visto se abbiamo un array di interi numeri uguale 4 1 42 37 10 24 posso utilizzare il metodo arrays .sort che riceve numeri e poi posso stampare questo array ordinato ovviamente con il toString di numeri questo perché ovviamente il metodo sort che vediamo qua utilizzato è un metodo sort che riceve un array di interi e quel metodo sa come fare il confronto tra due numeri interi ok il problema è se io ho un array di ad esempio static class persona che ha ad esempio nome e cognome persona sostanzialmente fa un nome uguale a n e cognome uguale a c e abbiamo anche un override public string string mi fa un return di zona 2 punti cognome virgola l'ho fatta molto minimale ma giusto per dire a questo punto se io ho il mio array di persone array persone uguale zona zona e voglio andare a ordinare questo array posso fare un arrays punto sort persone perché esiste un metodo sort quindi un overload del metodo sort che accetta come parametro un array di object guardatevi che qua usiamo la covarianza quindi un array di object può accettare un array di qualunque cosa la domanda che vedo adesso in chat si può ordinare in base a un certo attributo di persone il punto è come fa il metodo sort a sapere in base a cosa ordinare al nome al cognome ovviamente non lo sa il metodo sort sfrutta una interfaccia che si chiama comparable usa l'interfaccia comparable ok domanda come mai in println abbiamo utilizzato il toString di arrays perché il toString degli array non ci stampa gli elementi ok ma ci stampa semplicemente il nome della classe e l'hash invece io voglio la stampa del contenuto che non è quello che fa il metodo toString degli array è poco intuitivo anche perché quando stampo un array vorrei stampare gli elementi però di fatto il linguaggio è fatto così e quindi chi ha implementato il metodo toString degli array ha deciso di non darci nulla cioè di non implementarlo praticamente e di utilizzare quello di default di quindi usa un'interfaccia che si chiama comparable che vi scrivo qui sotto allora non è esattamente fatta così ok però tanto per intenderci è una interfaccia comparable vi do la versione semplificata poi vedremo tra qualche lezione indicativamente dopo pasqua che in realtà non è scritta così ok è un pochettino più complicata però la parte essenziale è questa quindi comparable int compare to object o per cui all'interno del metodo sort questa ve la commento perché in realtà questa interfaccia è già scusate è già definita il metodo sort di arrays se noi volessimo scriverlo static void sort object quadre array for i uguale a zero i minore di array punto length lento for j uguale a zero j minore di array punto length più più j a 1 if diciamo così array di j meno 1 e maggiore di array di j allora scambia object o uguale a array j meno 1 array dj meno 1 uguale array dj e array dj uguale a o ok un bubble sort neanche molto ottimizzato ma giusto per farvi capire in realtà qualunque algoritmo ha poi questa parte qua un if di questo tipo dentro allora domanda object perché perché in questo caso io vorrei scrivere un algoritmo di ordinamento che funzioni su qualunque array e quindi voglio un object perché mi permette di ordinare qualunque array di persone di stringhe di interi e quindi mi permette di scrivere un metodo di ordinamento generale esattamente come il metodo sort ok solo che il metodo sort usa un algoritmo un po' più furbo e non un bubble sort non volendo andare a complicarmi la vita con algoritmi complicati io vi ho scritto un bubble sort da prima elementare ok domanda se l'array non è pieno o un errore immagino di ordinare elementi array soltanto pieni ok sì mi avete fatto notare che qui dovevo utilizzare un j ok quindi il maggiore funziona se questo fosse un valore numerico ok infatti il computatore ci dice c'è un errore non possiamo fare un confronto quindi invece di scrivere questa cosa qui io utilizzo l'interfaccia comparable quindi dico comparable primo uguale cast a comparable di array di j meno 1 e poi if primo punto compare to array di j se questo è maggiore di 0 allora faccio lo scambio comparable non l'abbiamo visto ma automaticamente il compilatore mi ha mi ha inserito il riferimento a comparable comparable al metodo compare to come vi dicevo è questo che abbiamo disegnato abbiamo scritto qui sopra ok e quindi in questo modo il mio ordinamento può funzionare il metodo sort della classe arrays sostanzialmente a parte non usare i due cicli annidati quindi con complessità n quadro alla fine però quando deve fare il confronto scrive una cosa di questo tipo ok domanda la classe obiett implementa comparable no posso fare questo cast come vi dicevo prima perché il compilatore non implementa cioè non fa nessun controllo assume che la classe effettiva dell'oggetto puntato implementi comparable quindi dall'osservazione che mi fai è evidente che cosa succede se io passo qui un array di oggetti che non implementano comparable in questa linea qua ho un class cast exception ok se io non lo faccio adesso non ho chiamato questo metodo ho chiamato un metodo array sort ma se lo chiamo su persone ottengo un class cast exception ok esattamente come ce l'avrei se avessi chiamato questo metodo che abbiamo scritto qui ok quindi quel cast lì presuppone che la classe effettiva degli oggetti implementi non comparable altrimenti abbiamo questo problema ok a questo punto cosa faccio vado a prendere la mia classe persone vado a dire che implements comparable 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 prevede che ci sia quel metodo e quindi aggiungo il compare to ok lo faccio aggiungere da eclipse e qui cosa faccio vado a fare un ordinamento ad esempio per cognome qui posso sfruttare il fatto che la classe string a sua volta implementa comparable e quindi posso fare semplicemente un return di cognome punto compare compare to persona altra uguale cast a persona dell'oggetto o compare to o punto cognome scusate non o ma altra ok ho fatto il cast apposta quindi ribalto il confronto tra due persone nel confronto tra i cognomi attenzione questo non è questo compare to questo è il compare to di string ok quindi questa cosa qua è il compare to definito in string e quindi non è lo stesso si chiama lo stesso modo perché di fatto implementano lo stesso metodo definito nella stessa interfaccia ma quello che chiamo lì è quello definito dentro string che non è questo qui che invece viene chiamato su persona a questo punto una volta che io ho definito il metodo compare to implementando l'interfaccia comparable se lancio il mio metodo di sort la mia esecuzione vedete che ho la stampa degli interi non ho più il class cast exception e vado qui sotto a stampare anche le persone ordinate ok in ordine alfabetico quindi scusatemi lo rieseguo perché a questo punto così abbiamo la stampa vedete bianchi neri rossi e poi verdi ok ovviamente questo confronto ribalta il confronto sul confronto tra le stringhe che ovviamente implementano comparable questo metodo qui a race.toString che cosa fa? fa la scansione di tutti gli elementi e li stampa e li stampa in maniera corretta perché perché quassù nella classe persona abbiamo implementato il metodo toString ok quindi ci scrive persona anzi facciamo i due punti così un po' più breve chiama quel metodo lì perché quello fa l'override del metodo toString quindi quando devo stampare una persona finisco tramite il dynamic binding di chiamare questo metodo bianchi neri rossi verdi come funziona compare2 compare2 ha la stessa convenzione del strcmp che mi dice che il risultato è zero se i due oggetti sono uguali meno uno se l'oggetto su cui chiamo è più piccolo precede quello passato come parametro e un valore maggiore di zero se invece l'oggetto su cui viene chiamato è più grande segue l'altro quindi sostanzialmente la convenzione è la seguente ok zero se this è uguale a o minore di zero se this è minore di o minore nel senso di qualunque cosa voglia dire un confronto tra quegli oggetti ed è maggiore di zero se this è maggiore di o segue è più grande ok quello che volete domanda ma perché qui andiamo a mettere object invece di persona sarebbe molto più facile e eviterei questo cast ok vero il problema è che compare to è definito dentro comparable e in comparable quando hanno scritto comparable non sapevano che oggi 29 marzo 2021 alle 10 39 avremmo scritto una classe che si chiamava persona e quindi il parametro della classe compare to l'hanno messo object e non persona per facilitarci il compito questo vuol dire che se io qui invece di object vado a mettere persona mi viene segnalato un errore e mi dice attenzione questo non è un override concordo che sarebbe molto più comodo vedremo parlando di quelli che sono i metodi generici che in realtà c'è un trucco per mettere lì persona però la funzione la caratteristica base del metodo compare to è quello di prevedere lì un object anche equals tanto per farvi un altro esempio equals faccio un equals con che cosa con un object è scomodo anche lì devo fare un cast però il metodo equals per come è definito dentro la classe object prevede che ci sia un altro object stesso discorso che su compare to domanda quindi il metodo sort funziona se io passo un array di oggetti che implementano comparable esattamente se passo un array di oggetti che non implementano comparable come avete visto prima ho un class cast exception anche qui ma se io sort invece di definirlo in quel modo l'avessi definito come un array di oggetti un array di comparable non era meglio sì perché a questo punto avrei potuto chiamare un sort di scusate di persone che in quanto classic implementa comparable è assolutamente compatibile con quel metodo ok se se tolgo l'implements comparable lo tolgo qui e vado a mettere qua un commento il sort di persone continua a funzionare mentre invece il sort il nostro con un parametro comparable ci dà errore e ci dice attenzione qui mi aspettavo dei un array di comparable questa è stata una scelta fatta in fase di progettazione del linguaggio in cui il metodo sort si è deciso che dovesse accettare un array di di oggette invece che un array di comparable ok concordo con voi che sarebbe stato molto meglio mettere un array di comparable in questo modo il compilatore avrebbe potuto fare la verifica ma non è stato così e quindi niente se non facciamo attenzione abbiamo un class cast exception quindi con un array di comparable il compilatore ci mette in guardia prima con un array di object il compilatore ovviamente non può metterci in guardia perché sono object e quindi qui fa tutto bene qualunque cosa il problema è che dopo quando eseguo ho un class cast exception quindi in generale se dovete andare a scrivere voi dei metodi che hanno bisogno di oggetti che implementano l'interfaccia molto meglio questa soluzione qua perché l'errore lo vedete subito in fase di scrittura del codice piuttosto che quella di prima dove va bene qualunque cosa e poi a runtime mi trovo con un'eccezione ok quindi utilizzare le interfacce mi dà anche come effetto collaterale la possibilità di avere questi controlli fatti prima in fase di compilazione sto dicendo al metodo sort posso passare soltanto array di oggetti che implementano quell'interfaccia perché poi dentro mi servirà quell'interfaccia dovendo chiamare il metodo compare to ho bisogno che gli oggetti imprimetano comparable quindi sto dicendo questo metodo accetta soltanto array di un certo tipo di nuovo il discorso che ho fatto un certo numero di volte in generale è molto meglio accorgersi in fretta degli errori possibilmente mentre sto scrivendo il codice piuttosto che accorgiamene più tardi quando sto già eseguendo il codice oppure dopo il codice ce l'ha già in mano il mio cliente prima me ne accorgo meno mi costa correggerlo quindi tornando su e andando a ripristinare quello che c'era prima a questo punto i due metodi sostanzialmente si equivalgono ok qui abbiamo visto finalmente le interfacce all'opera a questo punto diciamo sospendiamo un attimo il discorso sull'interfaccia e sull'ereditarietà e concentriamoci un attimo sull'ordinamento visto che quando io vi chiedo un algoritmo a caso voi mi dite l'ordinamento è bene sapere come funziona anche perché oltre a essere quello che vi ricordate subito è uno di quelli più utilizzati come funziona l'ordinamento allora l'ordinamento quello dato dal metodo sorta ma in realtà in generale è sempre un ordinamento crescente ok se io non dico nulla quello è un ordinamento crescente il risultato è quello dato sostanzialmente dal metodo compratù ok cosa vuol dire che una persona è più grande o segue un'altra beh in base a quello che abbiamo scritto qua significa che il suo cognome è più grande o segue quello di un altro ok il significato di ordine è scritto scolpito nel codice dentro quel metodo compratù se invece di fare semplicemente un confronto tra i cognomi volessi fare anche un confronto tra i nomi come potrei fare? una possibilità è questa scusate vi commento queste due righe di codice e ve lo scrivo qua sotto abbiamo un int che il confronto cognomi che è uguale a il risultato di questa chiamata se il confronto tra i cognomi mi dà come risultato zero ovvero se mi trovo con lo stesso cognome compare to che mi dà uguale a zero vuol dire che le due stringhe sono sostanzialmente uguali a questo punto faccio un return di nome punto compare to altra persona punto nome altrimenti semplicemente faccio un return del confronto tra i cognomi questo mi permette di andare a ordinare in base a cognome e a nome quindi se vado ad aggiungere un Francesca Bianchi che precede alfabeticamente Francesco e vado a fare un sort scusate su un sort allora ho un errore non riesco a vedere dove allora scusate in fondo qua ah ok scusatemi perché qui invece di se lo chiamo comparable il mio codice dovrebbe utilizzare un comparable e non un object ok era riferito al codice del prima quindi se io vado ad eseguire il mio codice quello che ottengo è Bianchi Francesca poi Bianchi Francesco Neri Filippo Rossi e Verdi ok quindi l'ordinamento è fatto prima in base al cognome e poi in base al nome e se volessi fare un ordinamento inverso qualche idea inverso del confronto esattamente quindi meno 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 ok quindi in questo caso con il meno ottengo Verdi come primo elemento Rossi e ovviamente anche l'ordinamento tra i nomi al contrario quindi Francesca Bianchi è l'ultima ottimo altra cosa che posso fare è invece di fare cognome compertù altra punto cognome fare altra punto cognome compertù cognome e quindi scambiare sostanzialmente i due elementi invece di fare l'inverso potrei andare a fare così altra punto cognome compertù cognome domanda se metto l'inverso nel confronto non cambio il comportamento di tutte le funzioni che utilizzano compertù sì certo certo sì sostanzialmente qui io sto andando a dire che l'ordinamento naturale degli oggetti di tipo persona è cognome e nome decrescenti quindi se faccio il confronto lì qui tolgo il meno ho sostanzialmente lo stesso risultato il meno è decisamente più veloce nel senso che basta mettere un meno e ho il risultato ok perfetto l'osservazione che c'era un attimo fa in chat è che se io vado a modificare qua in realtà tutte le volte che faccio un ordinamento sarà decrescente sì questo è un problema è un problema perché a volte magari io voglio avere in alcuni casi un ordinamento crescente in altri casi decrescente un altro caso magari voglio avere un ordinamento per nome e non per cognome o per matricola per indirizzo per qualunque altra cosa posso mettere dentro persona il metodo compare to e quindi l'interfaccia comparable invece mi danno un ordinamento naturale ok l'ordinamento naturale è uno ok e se io volessi fare più ordinamenti come faccio il metodo sort questo che abbiamo visto utilizza un array e l'ordinamento naturale tuttavia esiste un altro metodo sort che mi permette di fare l'ordinamento con un criterio che scelgo io a piacere allora ripristino la variante di prima ok così l'ordinamento naturale è quello alfabetico che insomma è anche quello più più sensato ok quindi se andiamo a definire comparable andiamo a implementare comparable qui mettiamo quello più più logico ok abbiamo uno anche nel toString io potrei voler fare tante tante stampe diverse nel metodo toString vado a mettere quella che è più ragionevole più utile più semplice più intuitiva oltre al metodo sort che abbiamo visto qua ok esiste un'altra variante un overload in cui oltre al array che io voglio andare a ordinare il metodo sort accetta anche un altro oggetto che è un comparatore cos'è un comparatore è un oggetto che ha il compito di fare il confronto ok il comparatore implementa un'interfaccia che è scritta così non è scritta esattamente così ma è la cosa più simile interface comparator int compare object a object b ok quindi invece di chiedere a un oggetto di confrontare se stesso con un altro che è quello che fa il metodo compare to qui chiedo a un oggetto esterno di prendere due oggetti di confrontare e di darmi il risultato ovviamente questo intero segue la solita convenzione nel senso che è uguale a 0 se a è uguale a b è minore di 0 se a è minore di b ed è maggiore di 0 se a è maggiore di b quindi quindi l'idea è vado a creare un oggetto che implementi compare to di una classe che implementa compare to e dentro questo oggetto vado a fare il confronto alfabetico crescente alfabetico decrescente per lunghezza per numero di caratteri del cognome eccetera ok quindi ve lo commento perché questa interfaccia in realtà è già definita esattamente come comparable e quindi provo a riscrivervi la variante di questo nostro bubble sort fatta con il comparatore quindi è identica o quasi salvo che qui oltre al nostro comparable in realtà object perché a questo punto non devono più essere comparable ok sono oggetti il confronto viene fatto da una terza parte abbiamo un comparator cmp comparator ed è definito dentro l'interfaccia dentro del package java.utile quindi lo devo importare ok a questo punto il confronto come lo faccio vado a prendere cmp punto compare e qui vado a prendere l'array di j meno uno e l'array di j qui non è più comparable ma è ogget ok quindi vedete la differenza prima faccio un cast a comparable e chiamo compare to sul primo degli oggetti in questo caso prendo direttamente l'oggetto comparatore e chiamo su di esso il metodo compare e questo mi darà un valore intero minore uguale o maggiore di zero e in base a questo valore vado a fare gli scambi ok di nuovo questo è un bubble sort il metodo sort di array è un po' più efficiente e quindi utilizziamo quello ma nella sostanza non cambia molto anche dentro il metodo sort di arrays c'è un qualcosa di questo tipo domanda sulla base di cosa li confronta beh attenzione comparator è un'interfaccia quindi di per sé è vuota siamo noi che dobbiamo definire una classe che implementa quell'interfaccia quindi posso andare a definire uno scusate state static class alfabetico inverso implements compara comparetor e qui ovviamente vado a mettere il metodo prendo due oggetti che in realtà sono due persone quindi persona a uguale cast a persona di o1 stessa cosa per la seconda persona b e metto o2 e qui vado a fare esattamente il confronto di prima quindi vado a mettere un int confronto cognomi uguale a punto cognome punto compareto b punto cognome if anzi scusate ci metto il meno davanti if cc è uguale a 0 return cc altrimenti return a punto nome punto compareto b punto nome ora qui sto utilizzando direttamente gli attributi perché non l'ho messi privati in un caso più generale utilizzerei dei metodi getta rossetta domanda il metodo compareto potrebbe dare anche l'entità della differenza sì nel senso che gli algoritmi si basano semplicemente sul segno minore di 0 uguale a 0 maggiore di 0 se invece di restituire meno 1 restituisco meno 10 meno 100 o un valore che può cambiare va benissimo ok non cambia nulla nel senso che gli algoritmi di ordinamento non si basano su quello se devo restituire in confronto da due interi posso restituire tranquillamente la differenza per dire tutti gli algoritmi di ordinamento non guardano il valore ma esclusivamente il segno quindi una volta che lo rispetto o rispetto questa convenzione posso anche fare qualcosa di più sofisticato ma inutile per gli algoritmi di ordinamento ma magari per un mio algoritmo particolare potrebbe essere utile l'importante è rispettare la convenzione dei segni il resto è un di più quindi se io faccio alfabetico inverso classe fatta in questo modo funziona benissimo e cosa faccio? vado sostanzialmente a definire alfabetico inverso ai uguale new alfabetico inverso e qui passo scusate chiamiamolo comparatore così è lui ok e quindi creo un oggetto di questo tipo lo passo al metodo sort che lo utilizza per fare i confronti risultato che in un caso uso l'ordine alfabetico normale nell'altro caso uso un ordine alfabetico inverso sbagliato perché probabilmente ho il cognome devo mettere al contrario ok ok mi fa un ordinamento che non ha senso ho sbagliato qualcosa scusate hai ragione è diverso da zero ok se è diverso da zero restituisco cc altrimenti vado a fare il confronto altrimenti faccio il confronto tra i nomi ok quindi bianchi francesca come in questo caso primo in questo caso verde giuseppe ok grazie del suggerimento domanda queste classi vengono messe dentro altre classi perché in realtà sono usate una volta sola sì vi dirò di più spesso queste classi non hanno neanche un nome ovvero invece di scrivere questo molto spesso quello che scrivo è comparatore comparatore chiamiamolo a per dire anonimo uguale new comparatore aperta chiusa tonda se ci fermassimo qua il risultato è comparatore un'interfaccia non la puoi istanziare ok è come tentare di istanziare un'interfaccia scusate una classe astratta non è possibile però java ci consente una notazione che è questa apro una graffa e qui dentro vado a mettere l'implementazione che sta qui sotto ok né più né meno pari 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 questa è quella che si chiama una classe interna anonima anonima perché non ha un nome nel senso che è una classe che implementa comparetor ma non ha un suo nome ok qui l'ho chiamata la classe si chiama alfabetico inverso qui sotto qui non ha un nome l'unica cosa che so è che implementa comparetor e quindi la posso passare qua ok quando ho una classe interna anonima tutte le volte che la implemento soprattutto se ho un unico metodo da implementare come in questo caso tutto quello che sta da qui fino a qui più vabbè le chiuse è un qualcosa che ripeto tale e quale tutte le volte per cui se l'interfaccia ha un solo metodo ok solo in questo caso posso utilizzare posso utilizzare la notazione che si chiama lambda ovvero invece di scrivere questa cosa qua comparatore chiamiamolo l uguale tolgo tutta quella parte lì ok che tanto è uguale il compilatore la sa scrivere lui meglio di me e vado semplicemente a mettere qui una freccia ok questa freccia è l'operatore lambda e a questo punto non mi serve più la chiusa graffa della classe ma mi fermo qua e qui posso utilizzare il comparatore l se eseguo tutto ottengo di nuovo esattamente lo stesso risultato ok il codice è lo stesso quindi sto scrivendo esattamente la stessa cosa in tre modi diversi primo modo questo definisco fuori da questo metodo una classe la istanzio e poi la uso come comparatore ok secondo modo invece di andare a definire una classe inventarmi un nome lascio la classe come anonima ovvero non gli do un nome gli dico semplicemente che è una classe che implementa comparetor e poi la scrivo direttamente qua il vantaggio della classe interna anonima è che io la posso scrivere direttamente sopra la chiamata al metodo sort tendenzialmente quando io chiamo un metodo sort con un comparatore quel comparatore lì lo uso esclusivamente in quel punto quindi è inutile che vada a definire una classe con un nome che poi creo una volta sola e utilizzo una volta sola in un solo punto ok quindi è decisamente meglio rispetto alla versione precedente questa è molto più compatta è molto più sensata tra l'altro qui ho la chiamata subito sopra vedo il criterio nell'altro caso devo andare a cercarmi la classe di tipo comparatore che starà magari in un altro punto quindi è molto più evidente qui la logica con cui viene fatto l'ordinamento il terzo modo quello che c'è qui sotto è quello che si chiama lambda function una funzione lambda funzione perché l'idea è che c'è un unico metodo dentro l'interfaccia quindi l'interfaccia è una interfaccia che viene detta funzionale quindi quando ho un'interfaccia che ha un solo metodo quindi è funzionale funzionale nel senso che quel metodo lì è come una funzione dipende esclusivamente sui parametri ok il comparatore non ha attributi ha semplicemente un metodo è un oggetto che ha comportamento operazioni ma non dati è molto diverso rispetto a quelli che abbiamo visto finora ok dove c'erano dati e operazioni assieme è un metodo che semplicemente mi dà del codice da eseguire non ha dati se ho questa condizione è il caso del comparatore proprio così è un'interfaccia con un unico metodo posso utilizzare questa notazione molto compatta decisamente più compatta di quella precedente in cui metto i parametri devo metterli perché il nome dei parametri lo devo definire da qualche parte ok il compilatore non si può inventare i nomi dei parametri mentre si può inventare tutta la parte prima la può inferire tranquillamente lui i parametri la freccia dicendo che a partire da quei parametri vado a eseguire quel codice e poi il metodo uguale a quello di prima non c'è nessuna differenza ho fatto un copia e incolla con il codice che viene eseguito in risposta a quei parametri a questo punto la lambda function è sostanzialmente un modo più compatto di andare a scrivere una classe interna anonima per interfacce funzionali ed è quello che normalmente faccio ok di più invece di andare a scrivere questo oggetto comparatore L eccetera eccetera e se ometto la variabile comparatore posso scrivere il tutto in questo modo quindi prendo la mia lambda e invece di assegnarla a una variabile la vado a scrivere direttamente qua sort persone come faccio a fare l'ordinamento o uno o due eccetera domanda questo operatore è tipico di Java o è presente in altri linguaggi allora c'è in alcuni linguaggi ed oggetti diciamo che è una notazione molto compatta che c'è in praticamente quasi tutti i linguaggi moderni c'è una notazione esattamente identica quasi identica ad esempio in JavaScript l'unica differenza è che in JavaScript non c'è la freccia ma lo scrivo qua in JavaScript uso la freccia così in realtà la freccia così in JavaScript non mi dà un'interfaccia funzionale ma mi dà una funzione però in tanti linguaggi c'è l'equivalente non sempre utilizza quella sintassi specifica con la freccia però sì quindi notazione estremamente compatta che mi permette di descrivere molto bene l'ordinamento quindi cosa faccio sorte di persone e qui dietro vedo come faccio a fare l'ordinamento ora vi anticipo che dopo Pasqua vedremo quelli che sono i tipi generici e con i tipi generici per questo ordinamento si scrive in questo modo tolgo i tipi e anche qui avrei potuto togliere i tipi obiett vi faccio vedere direttamente la versione sintetica a b tolgo questi e restituisco esclusivamente questo perché il compilatore riesce a fare l'inferenza di tipo e quindi compatto ancora tutto vedremo poi perché possiamo scrivere questo vedremo che in realtà comparator è un'interfaccia generica quindi è un pochettino più sofisticata di quella che vi ho scritto io prima come esempio e quindi permette di essere parametrizzata anche in base ai tipi e qui adesso facendo un passo indietro rispetto all'ordinamento vediamo un altro uso tipico delle interfacce ovvero posso utilizzare un'interfaccia per definire quello che è un comportamento se voi ci pensate finora io quando passavo degli oggetti dei riferimenti a dei metodi passavo questi oggetti e questi oggetti erano degli oggetti completi che avevano sia dati che metodi in questo caso il nostro comparatore non ha dati è semplicemente un oggetto che è un contenitore di codice che viene eseguito quando serve è quella che io chiamo un parametro comportamentale o behavioral il parametro non mi dà dei dati ma mi dà un comportamento del codice un'operazione o delle operazioni ok quindi ulteriore utilizzo delle interfacce ok vedrete che in Java le classi astratte con cui abbiamo iniziato la lezione di oggi sono un qualcosa di utilizzato in maniera molto limitata ok ci sono alcuni casi sicuramente utili ma in realtà Java sfrutta in maniera pesante le interfacce molto più delle classi astratte l'ordinamento fatto sia con l'interfaccia comparable che con il comparatore sono due esempi molto significativi di come posso sfruttare interfacce per andare a gestire una variabilità ad esempio l'operatore scusate il metodo sort è un metodo che io scrivo una volta sola che è stato scritto una volta sola e sfruttando queste due interfacce compareter e comparable è in grado di operare su qualunque tipo di oggetto in un caso forzando gli oggetti a implementare l'interfaccia comparable nell'altro quello che vediamo qui chiedendo un oggetto aggiuntivo che è in grado di fare il confronto entrambi questi meccanismi sfruttano come elemento di base le interfacce quindi a questo punto sapete come fare l'ordinamento utilizzando un modo che è quello dell'ordinamento naturale col comparable oppure utilizzando un comparatore che va a prendere due oggetti e fare il confronto con il comparatore ovviamente possiamo rendere tutto più generico perché io qui vi ho fatto tante tassi diverse ma che utilizzano esattamente lo stesso criterio di ordinamento se io volessi fare un ordinamento che si basa su la lunghezza numero di caratteri del cognome potrei andare semplicemente a dire qui a freccia b faccio a.cognome.length meno b.cognome.length senza neanche la necessità di mettere un return ok quindi in questo caso faccio un ordinamento per lunghezza del cognome quindi neri è quello più corto e bianchi è quello più lungo oppure faccio un ordinamento in base al alla lunghezza del nome ma inversa quindi dal nome più lungo al nome più corto il nome Francesco è quello più lungo poi c'è Francesca che è uguale poi abbiamo Giuseppe Filippo e infine abbiamo Mario che è il nome più corto ok è quello che volete il grosso vantaggio è che qui io metto il criterio in termini di codice e ho il risultato questa è l'altra forma della funzione lambda dell'operatore lambda in cui metto direttamente un'espressione senza dover mettere le graffe e ritorno ok quindi questa scrittura qua vi metto prendo l'ultima equivale sostanzialmente a una scrittura in cui ho graffa return di quell'espressione lì e chiusa il graffa ok quindi la lambda è sostanzialmente un modo più compatto di esprimere qualcosa che comunque riuscirei a esprimere in altro modo il vantaggio è che è compatta e quindi più veloce da scrivere più veloce da da comprendere ok bene direi che per oggi abbiamo visto un po' di cose vi metterò un'altra lezione per concludere la panoramica su l'ereditarietà in particolare sull'interfacce alcuni di questi concetti verranno poi ripresi in maniera un pochettino più strutturata e la potrete applicare nelle prossime esercitazioni la prossima esercitazione quella di mercoledì sarà sostanzialmente su l'ereditarietà quindi le cose di base sostanzialmente non cose particolarmente complicate ma per far iniziare ad orientare su come funziona l'ereditarietà direi che con questo terminiamo la lezione di oggi per il termino